Ciao a tutti amici di AppleBlogget In questo video andremo a fare l'unboxing e una breve review della Smart Case per iPad 2 e il nuovo iPad Come alcuni di voi già sanno la Smart Case è un accessorio veramente molto molto amato da tutti i fan Apple è un accessorio che assomiglia in tutto per tutto alla Smart Cover ma oltre ad effettuare le solite funzioni della Smart Cover stessa pensa anche a ricoprire il retro del dispositivo questa è la confezione, davanti abbiamo una confezione trasparente dove possiamo vedere il modello di Smart Case scelto e dietro abbiamo un insieme di tutte le regole e informazioni riguardanti il prodotto e poi abbiamo quattro screenshot che ci mostrano un po' le funzionalità della Smart Case vi dico subito che le Smart Case sono prodotte tutte in poliuretano hanno un prezzo di 49 euro e una variante di 6 colori gli stessi colori presenti in poliuretano per la Smart Cover io ho scelto il colore grigio chiaro iniziamo, andiamo ad aprire velocemente la confezione andiamo un po' a vedere il contenuto della confezione stessa e dopodiché proveremo subito a indossare la Smart Case sul nostro iPad ecco qui, la confezione proprio come quella della Smart Cover si apre a libro abbiamo la Smart Case che mettiamo un attimo da parte e poi qui abbiamo delle brevi istruzioni su come montare l'accessorio niente più in questa confezione ecco qui, questa è la Smart Case come potete vedere è stato inserito questo qua che provvediamo subito a togliere abbiamo la Smart Case che è in poliuretano sia davanti che dietro e poi all'interno abbiamo microfibra quindi un prodotto veramente fantastico andiamo a vedere e inserire l'iPad ecco qui inseriamo il nostro amato iPad vediamo subito di capire come si fa sicuramente si vanno a far entrare l'accessorio in tutti gli angoli dell'iPad tre, ultimo angolo ed ecco qua e chiudiamo l'iPad a libro anch'essa penso che provveda a riavviare il dispositivo aprendosi ecco così, infatti lo fa e poi conserva tutte le funzionalità della Smart Cover quindi stand verticale e stand orizzontale ecco qua protezione dietro che è veramente fantastica ci sono i buchi per tutte le aperture del dispositivo andiamo a vedere e poi qui trasparente dove possiamo vedere la mela quindi veramente un accessorio completo che ci fornisce una copertura e protezione totale dell'iPad questa recensione finisce qui una breve notizia è che nel momento in cui Apple Blogget arriva a 100 iscritti butta fuori un nuovo video nel quale si parlerà di Google Chrome per iOS questo è stato Apple Blogget e noi ci rivediamo al prossimo video e noi ci rivediamo al prossimo video e noi ci rivediamo al prossimo video